Gli indipendentisti di Irsa hanno occupato pacificamente la sede di Equitalia a Sassari per manifestare contro lo stato di crisi che sta soffocando l'economia dell'isola. 65.000 aziende sarde, molto più di un terzo del totale, sono debitrici del fisco o dell'Inps e iscritti a ruolo presso Equitalia a Sardegna. Le tragedie di debitori disperati riportate dalla stampa testimoniano di un baratro di cui i dirigenti dell'ente sono a diretta conoscenza, muovendo loro le procedure di riscossione coatta, pignoramento, blocco fiscale dei beni, Cavino Sale, leader indipendentista, ha portato insieme alla denuncia le proposte di Irsa per ammortizzare la crisi. La chiave centrale di tutta cosa per noi è per adesso avere un congelamento del debito per almeno 24 mesi. All'occupazione pacifica ha partecipato Giuseppe Carboni, artigiano di Soleminis, che coordina un comitato di aziende debitrici, il quale ha denunciato procedure di riscossione impietose e ingiuste fondate sulla presunzione di conoscere da indicatori fissi quanto entra nelle casse delle aziende che invece sono vuote. Si tratta di problemi che devono risolvere i politici regionali e nazionali, mentre noi siamo uno strumento tecnico di pura esecuzione, hanno risposto i funzionari di Equitalia, Gianfranco Melis e Gianmario Virdis, che non hanno escluso la disponibilità dell'ente ad accogliere linee di indirizzo diverse se imposte dall'alto. Ma per sale non c'è un attimo da perdere, perché sull'economia sarda stanno allungando le mani le associazioni mafiose. È una crisi mai vista e possiamo dire con certezza che oltre il 52% del territorio sardo ormai è in mano a società immobiliari, in mano a società i cui capitali sono di dubbia provenienza. Abbiamo individuato dei personaggi, per esempio un infermiere in pensione ha comprato 16 case nell'ultimo anno e altrettante le ha rivendute. 166 tra ville e appartamenti normali sono all'asta e abbiamo visto che le offerte fioccano soprattutto da imprenditori cosiddetti del continente. La manifestazione di IRS si è conclusa con un sit-in all'ingresso dell'Agenzia delle Entrate.